Prorogare di un altro anno l'agevolazione sul credito d'imposta è quanto ha chiesto il parlamentare ibleo Nino Minardo al ministro dell'economia alla luce della crisi economica dettata dal covid-19 e non ancora terminata. In questo particolare e delicato momento, ha affermato Minardo, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, molte aziende non hanno potuto sfruttare l'agevolazione derivante dal credito d'imposta per gli investimenti del mezzogiorno. Un'agevolazione introdotta dalla legge di stabilità del 2016 rivolta alle imprese del Sud Italia che dal 1 gennaio del 2016 al 31 dicembre 2019 abbiano acquistato beni strumentali nuovi. Una misura importante per stimolare la crescita e il rilancio economico delle imprese del mezzogiorno per questo prorogata al 31 dicembre 2020, termine ultimo entro il quale poter usufruire del credito d'imposta. Come detto, però continua Minardo, il sopravvento della crisi economica causata dalla pandemia da covid-19 ha determinato una grave carenza di liquidità per le imprese, impedendo di conseguenza a molte aziende di acquistare nuovi macchinari e usufruire dell'agevolazione derivante dal credito d'imposta. Per questo ho chiesto, conclude il parlamentare Ibreo al Ministero dell'Economia e Finanze, un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre del prossimo anno della misura agevolativa, considerato che si è rivelata un efficace incentivo per le imprese che hanno voluto e vorranno ancora investire in beni strumentali.